Nella città del paglio più antico d'Italia, del poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri, dello scrittore acclamato a livello planetario Giorgio Faletti, aumentano i residenti. Nel 2011 si è arrivati a 76.808, 274 cittadini in più rispetto al 2010, 155 sono maschi, 119 femmine. Lo confermano i dati elaborati su Indicazione dell'Istat e pubblicati dall'Ufficio Statistica del Comune di Asti. La popolazione astigiana è dunque in movimento. Resta confermato il primato delle donne sugli uomini, 40.199 contro 36.609. Che ad Asti le donne siano in maggioranza non è una novità, anche l'anno scorso superavano gli uomini. Un primato dunque costante e crescente. Sarà per questo che ci si sposa di più? Semplice supposizione, ma il dato certo è che nel 2011 si sono sposate 235 coppie, 20 in più rispetto al 2010. Chi ha deciso di compiere il grande passo ha scelto preferibilmente il rito civile, in 119. Per in chiesa sono convolati a nozze 116 neo sposi. Nel 2011 però non sono mancati i divorzi, sono stati 86. I residenti nel capoluogo astigiano continuano ad invecchiare e gli over 65 sono ormai il 20% della popolazione. Ma aumentano anche i nuovi nati, 684 in un anno, 374 maschietti e 310 femminucce. Le coppie che hanno retto e messo su famiglia negli ultimi sei anni sono aumentate, sono 33.745 dall'ultima analisi. I nuovi astigiani sono in lieve diminuzione. In calo il numero degli iscritti all'anagrafe, scesi dai 2630 del 2010 ai 2245. In calo i trasferimenti dall'estero, aumentati seppur di poco gli emigrati e anche in questo caso più donne che uomini.